Ciao, nuovo video, scusate sto morendo di caldo, non fate caso alla mia situazione attuale, ma penso ci siate abituati visto che mi vedete nelle storie sempre struccata e in condizioni assurde, sapete che io nelle storie cerco di non mettere mai i filtri perché voglio che voi vi abituate alla mia faccia reale, una cosa in cui credo, in realtà no è sadismo. Vabbè, veniamo a noi, ah, se non mi seguite ancora su Instagram venite a seguirmi, sono la ricetta fit e sul mio blog ricettafit.it dove pubblico le mie ricette, su Instagram posto praticamente tutti i giorni, quindi non avete scuse, ma veniamo a noi, e l'autofocus impazzisce, veniamo a noi, parliamo di cibi finiti del periodo, so che è un video che vi piace tanto, io mi sento sempre un po' stupida a farlo, però se a voi vi piace io lo faccio molto volentieri, anche perché parlare di cibo mi fa. impazzire, quindi parliamo di cibo. Vado come sempre in modo un po' randomico, un succo trovato al Conad, questo è pesca in lime con ginseng senza zuccheri aggiunti. Allora, io sapete che non amo molto i succhi di frutta perché preferisco mangiare la frutta, soprattutto perché in generale quando noi ci facciamo, ma anche in casa, un succo di frutta, o un estratto o un frullato, andiamo ad eliminare le fibre che sono poi la cosa buona della frutta perché regola un po' l'indice glicemico e gli zuccheri nel sangue. Togliendo le fibre noi andiamo di base a bere zucchero, che è zucchero buono, ma è zucchero libero e quindi ci farà alzare il picco glicemico nel sangue e ci farà venire fame dopo pezzura. Quindi io in generale cerco di farmi o gli estratti di verdure in casa o comunque di mangiare la frutta e di non berla, anche perché quando beviamo un succo di frutta secondo me non ci rendiamo molto conto di quello che stiamo ingerendo e quindi potrebbe essere più difficile mantenere l'introito calorico giornaliero esatto e magari eccedere perché il succo di frutta scende benissimo di base, diciamocelo. Quindi in generale preferisco mangiare, però in queste giornate di gran caldo lo so ragazzi, non ci fossilizziamo su queste cose, l'ho visto in offerta e l'ho voluto provare. Allora come il sapore è molto buono e devo dirvi la verità è anche molto leggero, l'unica cosa che mi lascia un po' perplessa è il fatto che il succo dentro deriva da concentrato, quindi non è proprio una botta di salute, però devo dirvi la verità che gli ingredienti sono acqua, purea di pesca da concentrato al 19%, succo di lime, acidificante, un po' di addensante, l'estratto di ginseng, poi c'è il sucralosio e l'estratto steviolico. Quindi ha pochissime calorie, ha praticamente i macronutrienti a zero e le calorie sono 6% ml. Non è male, magari allungatelo anche con un po' d'acqua, io faccio così in modo da bere un po' un'acqua aromatizzata, non è male, il sapore è molto buono e devo dirvi la verità, pensavo fosse più liquido, in realtà è anche bello denso, c'è l'addensante, ma secondo me per concedervi uno sfizio va bene, costa davvero poco, un euro al Conad. Sempre per quel genere di cose che non sono proprio salutari, ma allora io penso che nella dieta, dieta inteso come regime alimentare perpetrato nel lunghissimo tempo per tutta la vita, la cosa fondamentale sia l'equilibrio, la sostenibilità. Quindi io mi concedo tutto e non sono favorevole a chi elimina degli alimenti o delle categorie di alimenti dalla propria dieta, poi ognuno fa quello che vuole, però io in generale vi dico come la penso. Vi volevo parlare di questa base per pizza, i maestri del forno, sì. Allora devo dirvi la verità, è una base per la pizza molto molto buona e molto simile a quella della pizzeria, vi parlo della pizza napoletana, è solo un poco più piccolina perché sono due basi da 210 grammi l'una. Quindi sta benissimo nel piatto, si cucina in due secondi, ecco questo potrebbe essere una cosa sfavoribile perché dovrete metterci sopra magari la passata di pomodoro già abbastanza cotta perché non ha proprio il tempo di cuocersi in forno, cuoce un paio di minutini, mi raccomando forno statico e non ventilato, altrimenti vi verrà una fetta biscottata, però non ne piace tantissimo e spesso la si trova in offerta a 1,20 euro per due basi pizza, secondo me è perfetto, io la trovo al Deco e questa qui è una marca che si trova anche da Eurospin, quindi buttate un occhio, si chiama i maestri del forno e gli ingredienti non sono male perché sono farina di grano tenero tipo 0, acqua, olio di semi di girasole, sale, lievito, farina di grano tenero, maltato, un po' di destroso, è praticamente all'ultimo destroso, quindi c'è giusto un po' per farlo lievitare, non è male, come sapore io ve la consiglio, se l'ho riuscita a trovare è buonissima, ve l'ho anche fatta vedere nelle storie e sembrava una pizza di pizzeria, ammettetelo. Ah, poi, sempre Conad, crackerini, mi piacciono molto, sono dei cracker integrali, allora per quanto riguarda queste sostituzioni del pane, è chiaro che è da favorire sempre il pane fresco, idealmente magari uno se lo fa in casa, ma i cracker o le gallette, comunque il pane pan baoletto, sono delle sostituzioni che una tantum, secondo me ci stanno benissimo, sempre per il discorso dell'equilibrio di cui prima, questi qua sono cracker integrali, però ha 12 grammi di fibre per 100 grammi e 11 grammi di grassi, mentre 12 grammi di proteine, con queste cose qui state sempre accorti al sale, perché ce ne sono 2 grammi su 100 grammi, non eliminate il sale, ma ovviamente stateci attenti, perché bisogna anche lì darci un occhio, e a me sono piaciuti tanto, sono molto croccanti, ma anche densi, non so come spiegarvi, avete presente quelli della marca misura, che sono di soia, quelli che sono belli densi, a me piacciono così, sono duretti, quindi si lasciano sgranocchiare, facilissimi da portare in giro, a me piacciono, costano 1,40 euro e sono 10 pacchetti, Conad. Allora, un'altra cosa interessante che vi volevo far vedere, sono queste tortillas, della marca Roberto, e queste si trovano praticamente in qualsiasi supermercato, le tortillas sono più leggere, più sottili, anche sia a livello calorico, che a livello proprio di grammatura, più leggere della piadina, quindi quando avete voglia di farvi una bella piadina e non avete il tempo di farvela in casa, secondo me la tortillas è una buona alternativa, perché non vi fa schizzare alle stelle l'introito calorico, ma vi fa comunque gustare una cosa sfiziosa, e anche il sapore è molto buono, quindi c'è di scaldarle prima, ma a me è capitato anche di mangiarle non scaldate, non è successo niente, rimangono morbidi invece che croccanti, e a me piacciono, anche se voglio farvi una ricettina per le piadine fatte in casa, o ancora meglio per il pane nan, che è quello molto leggero fatto con lo yogurt, quindi restate sintonizzate su Instagram, sul mio blog, perché voglio mettervi una ricetta di questo genere presto, poi, allora, io compro queste cose in estate quando c'è la frutta fresca, lo so, non mi uccidete, questo qui è un, madonna mi si incrociano gli occhi, questo qui è un, i fruttini, quelli là nelle scatolette, nelle scatolette di alluminio, questo qui è di valfrutta, è della linea 100% veggie, mango, mela, zucca, carota, buono, si sente molto molto il mango, e ovviamente anche la mela, la zucca no, però io queste qui, come le uso? Allora, per dolcificare qualsiasi preparazione, per spalmarle sul pane, sulle fette biscottate al posto della marmellata, perché queste sono frutta e verdura e non hanno zuccheri aggiunti, quindi abbiamo solo gli zuccheri della frutta, e sono secondo me molto buone, anche fuori casa, quando non abbiamo il tempo di portarci, di sbucciarci la mela, che vi devo dire, come spezza fame, certo, non è un frutto, anche lì la stessa cosa del succo di frutta, però a me piace sfizioso, e nei dolci ci consente di sostituire anche una parte di grassi e una parte di zuccheri, che non è male, perché rende comunque l'impasto anche nei pancake, le usate nei pancake vegani, che trovate sul mio blog, ve la linko qui sotto, e le ha resi morbidissimi, senza l'aggiunta di grassi e di uova, quindi questa è una cosa che io vi consiglio. Ci sono ovviamente anche di altri gusti, anche solo di sola mela, di sola pera, quindi vedete voi, zazzichi, che ci vuole a farsi la salsa zazzichi in casa? Niente, perché cos'è? Yogurt, aglio, un filo d'olio, una strizzata di mezzo limone, sale e cetriolo. Avete fatto la salsa zazzichi. Questa l'ho trovata in offerta, allora io quando trovo le cose in offerta, mi faccio passare gli spizzi, l'abbiamo provata, ci è piaciuta, ma la prossima volta io non la ricomprerò, perché me la faccio in casa, però devo dirvela, se la trovate, ve la consiglio, non è male. Allora, burger Valsoia, vabbè, finito, ma ve li ho fatti vedere più volte, mi piacciono, sono leggeri, non hanno troppi grassi, perché hanno 6,5 grammi di grassi su 100 grammi, e voi lo sapete che le cose in generale vegetali abbondano sempre in grassi, mi piacciono, me li tengo in freezer, e proprio per quelle cene dell'ultimo minuto sono la soluzione ideale. Ma più buone ancora sono questi burger vegetali che compro da Eurospin, e ogni volta che li compro su Instagram impazzite, perché piacciono tanto anche a voi. Io prendo in genere questi qui, con le verdure gregliate, sono semplici, sono molto buoni, hanno quel sapore un po' di affumicatino dentro, ve li consiglio, provateli, 1,79 euro, spesso sono in saldo, in saldo, in offerta, da Eurospin, e l'unica cosa che qualcuna di voi mi ha detto è che ci sono i peperoni, quindi potrebbe non essere digeribile per tutte. Fate una prova, secondo me ne vale la pena, perché se vi piacciono, è la svolta. Di solito sembrano sempre delle solette di scarpe, i burger vegetali, questi qui sono veramente, veramente buoni. Scoperta, scopertissima, scopertissima, perché io non mangio pesce, ho un'aliena in tolleranza, secondo me, perché il pesce alla griglia, io se sento anche solo l'odore, sto male. Quindi, l'unica cosa che io riesco a mangiare è il tonno, perché di base non è pesce, diciamoci le cose come stanno. Però sempre se l'ho provato, il tonno al naturale, che comunque non mi faceva impazzire. Tonno leggero, ha solo un filo d'olio, questo qui è mare blu, ma lo fanno anche altre marche, secondo me, il sapore non si discosta molto. ed è fantastico, perché oltre ad essere ovviamente caloricamente più leggero, ha meno sale, e non sembra la scatoletta dei gatti, perché il tonno al naturale, di solito io quando lo compro, è impregnato d'acqua, si disfa tutto, e a me sembra di mangiarmi la scatoletta del gatto. Questo qui mi è piaciuto, sia come consistenza, che come sapore, anche questo era sicuramente in offerta, però mi piace, quindi se anche voi cercate un'alternativa, magari condite un po' meno l'insalata, io vi parlo di regimi dietetici, però insomma è tonno, non è che si muore. Cioccolato fondente, uno dei miei must, quando mi chiedete Marika, ma cosa devo tenere in dispensa, il cioccolato fondente, cioè secondo me sì, perché avete presente quando vi viene quella voglia di dolce, dopo i pasti, un quadratino di cioccolato fondente, allora vi assicuro, anche io quando sentivo dire dal dottore, sì sì, mangia un quadratino di cioccolato fondente al giorno, dicevo, quadratino, ma mezza tavoletta, in realtà no, quando vi abituate a tarare il vostro palato, sulla dolcezza e sull'amaro, un quadratino di cioccolato fondente, io vi assicuro che vi basta, e a me basta per quelle serate in cui mi viene voglia, magari ci aggiungo una porzione di frutta secca vicino, o un paio di mandorle, un paio di noci, e mi fa passare quella voglia di dolce, questo qui è molto buono, sempre conad, è la versione equa, quindi è cacao di Repubblica Dominicana, senza glutine, è biologico, molto molto buono, l'unica cosa che io vi consiglio di guardare, quando comprate il cioccolato fondente, è che abbia al primo ingrediente, non lo zucchero, ma la pasta di cacao, mi raccomando, Digestive, questi qui sono della marca Gran Cereale, mi sono piaciuti tantissimo, sono il biscotto credo più burroso che esista, e poi mi dite, sì vabbè guardare i grassi del tonno, e poi ti mangi Digestive, sì, perché sono una persona molto cattiva, e con nessun sano principio, le ho usate per farci il gelato biscotto, che trovate su Instagram, e che ormai, vabbè avete rifatto in tantissime, secondo me, vi ha svoltato l'estate come l'ha svoltata a me, due, quattro biscotti al giorno, vi togliete lo sfizio, questi qui sono davvero davvero buoni, altro cioccolato fondente, che mi piace abbastanza, è questo qui, che trovo da Lidl, e che costa 89 centesimi, ne compro sempre un paio di tavolette, da avere in dispensa, ci faccio i dolci, me lo mangio così a pezzettoni, mi piace, e anche questo come primo ingrediente, ha al 70% massa di cacao, quindi questo ve lo consiglio, se cercate una versione un po' più economica, anche come sapore buono, sempre Eurospin, vi faccio vedere una cosa golosissima, che sono i savoiardi, sardi, ossia quei savoiardi belli, grandi, buoni, è stato da poco il compiano di Stefano, e il suo dolce preferito è il tiramisù, quindi io l'avevo preventivamente comprati, perché volevo farci il tiramisù, in realtà sì, ci ho fatto il tiramisù, poi alla fine quelli avanzati, me li sono mangiati così, come se fossero dei biscotti, a merenda, a colazione, sono buonissimi, vi leggo gli ingredienti, perché sono solo 45% di uova fresche, zucchero, farina di grano tenero 00, basta, ovviamente non sono zucchero, ovviamente non sono dietetici, sono buoni, sì, moriremo felici, sì, consiglio, allora, ho quasi finito l'olio di cocco, ce n'è rimasta un'antichina, ma vi devo dire la verità, quando è arrivato a metà, io l'ho traslato in bagno, e alla fine, questo qui è marca Rapunzel, e lo trovo da Natura Si, alla fine, ho cominciato ad usare, l'olio di cocco, extravergine, lavorato a crudo, della marca naturale bio, che mi fa impazzire, ed è buonissimo, e vi lascio tutti i riferimenti, anche di questo nell'info box, nel primo commento, dappertutto, se poi volete qualche link diretto, e non lo trovate, scrivetemi su Instagram, lo sapete, sono sempre a disposizione, perché l'ho poi cominciato ad usare in bagno, perché lo uso per innumerevoli cose, anzi, stavo pensando di farci un video, su tutti gli usi dell'olio di cocco, fatemi sapere, se può interessarvi, allora, l'olio di cocco, in generale, è molto molto bistrattato, perché all'inizio c'è stato un boom, quindi una moda dell'olio di cocco, buonissimo, lo metto dappertutto, dopo di che qualcuno è andato a leggersi Wikipedia, e ha scoperto che l'olio di cocco è un grasso saturo, aiuto, sì, è un grasso saturo, ma a catena lunga, cosa significa? Allora, io sto iniziando da poco a studiare un po' di biochimica, fai da te, quindi, aiuto, non mi uccidete, però, questo significa che il corpo lo recepisce in maniera un po' diversa, rispetto ai grassi saturi animali, non facciamoci spaventare dagli allarmismi, come vi dicevo prima, l'equilibrio, l'equilibrio è la prima cosa, è chiaro che si può vivere senza l'olio di cocco, anzi, noi in Italia abbiamo un olio extravergine d'oliva, che lo importiamo in tutto il mondo, è il nostro oro, e quindi potete benissimo vivere senza comprare mai nella vostra vita l'olio di cocco, a me piace molto perché dà ai dolci, soprattutto lo usano i dolci, un retrogusto molto buono e vi permette di non utilizzare aromi e cose strane nei dolci, e oltretutto sopporta molto meglio le alte temperature, e il nostro corpo lo recepisce in maniera un po' diversa rispetto, per esempio, agli oli di semi, insomma, consumati nel tempo possono crearci qualche problemino, quindi io lo alterno all'olio di cocco, all'olio di semi, all'olio d'oliva, e sto benissimo, appunto per mangiarlo preferisco quello extravergine trattato a crudo, non cotto, biologico, tutto quello che volete voi, questo qui lo tengo in bagno, e ci faccio tante cose, vabbè, ho finito le uova, in realtà non sono le uniche che ho finito in questo periodo, perché io in generale le uso, sia per fare i dolci che per mangiarle, in generale, escludendo i dolci, ne mangio una o due a settimana, ci sono settimane in cui ne mangio di più, in cui ne mangio di meno, di media due a settimana, ultimamente ho iniziato a prenderle solo biologiche, perché il biologico mi dà la sicurezza, che siano allevate a terra, e all'aperto, in uno spazio per loro un po' più consono, perché in genere anche le uova normali, allevate all'aperto, sono allevate all'aperto, ma comunque i recinti molto stretti, e siccome l'uovo potrebbe, insomma, inglobare tutto lo stress di queste povere galline, io preferisco, a parte supportare un allevamento un po' più etico, ma anche mangiare qualcosa, che poi non mi vada a creare problemi, perché sapete che, per un certo periodo ho avuto dei problemi, soprattutto con la carne di pollo, quindi sono andata in ansia, e anche il pollo sto cercando di comprarlo solo biologico, senza ormoni e via dicendo, allora noi in Europa abbiamo una normativa, e dei controlli molto stringenti, in generale sulla filiera alimentare, non ci possiamo lamentare, quindi no panic, però cerco di starci attento, almeno per la carne e per le uova, vi faccio vedere le ultime cose, vi parlo un po' del gluten free, allora questa è la farina di riso, me la vedete spesso utilizzare, sia nei dolci che nei pancake, l'ho finita, questa è quella biologica del deco, farina di riso, benissimo, e molte mi chiedete, quando faccio le ricette senza glutine, perché se non sei intollerante, mangi senza glutine, io non mangio senza glutine, però ho un blog di ricette, e il mio obiettivo, è quello di rendere la vita un po' più facile, a chi invece si trova, ad avere a che fare con intolleranze, o con stili alimentari un po' più ostici, vorrei tanto informarmi meglio, sulla dieta senza nickel, ma mi è molto difficoltoso, in linea di massima, io penso che a me piace cucinare, mi piace scoprire alimenti nuovi, ingredienti nuovi, quindi perché non utilizzare questa mia passione, per dare un servizio, a chi invece la vive come anche una cosa stressante, perché non a tutti piace sperimentare con le farine, o inventarsi le ricette senza questo e senza quello, però lo deve fare, e allora io cerco di, facendolo anche con piacere, perché vi ripeto la mia passione, quindi cerco di provare anche, per esempio, ricette senza glutine, senza uova, vegane, insomma, mi piace, quindi ecco il motivo per cui spesso trovate, nella mia gallery, anche ricette senza glutine, tra cui la farina di riso, è una delle farine che potreste trovare, più facilmente in commercio, che senza glutine, che mi piace anche come sabore, a proposito, se voi siete celiache, vi consiglio questa marca, che mi hanno mangiato, di un paio di cosette, ve ne parlo molto brevemente, è una bakery che si trova a Verona, si chiama Brio Gluten Free Bakery, che mi hanno omaggiato di tre cosine, non mi hanno chiesto di parlarne, ma io ve ne parlo lo stesso, quindi tronchetti al mais, questi qua erano buonissimi, senza latte e derivati, e sono formulati specificatamente per celiaci, questi erano buonissimi, davvero, erano dei biscottini al mais, con una grana molto particolare, e devo dirvi la verità, non avrei mai pensato fossero senza glutine, perché erano molto molto gustosi e croccanti, e questi qui invece che sono dei biscotti vegani, alle nocciole, senza glutine, questi qui erano una droga, cioè ma il pacchettino era troppo piccolo, 50 grammi, io me li sono mangiati per una merenda, era come mangiare un torroncino, cioè davvero buonissimi, la cosa che invece non mi è piaciuta, sono questi qui, che sono dei crecherini alla pizza, senza glutine, e mi sembrava di mangiare, il forex, mi dispiace, che questi qui non mi siano piaciuti, però io sono anche qui, per consigliarvi le cose, quindi se vi trovate, per le zone di Verona, andate a dare un occhio alla bakery, e comprate sicuramente, i tronchetti al mais, e i biscotti vegani alle nocciole, quelli vi riconsiglio, li ho mangiati, ed erano buonissimi, allora il video finisce qui, sicuramente ci rivediamo, a breve, con altre cose finite, o comunque con altri video, intanto vi dico, venite a seguirmi su Instagram, la ricetta fit, e sul blog, ricettefit.it, vabbè, ci vediamo anche nelle storie, grazie di aver guardato, e di avermi sopportato, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Ciao!